la royal foundation ha rivelato che il 39 per cento dei giovani ritiene di non gestire bene le proprie emozioni mentre il 95 per cento afferma che i propri amici hanno qualche tipo di problema di salute mentale la royal foundation del principe della principessa del galles ha trovato nuove prove di una generazione di giovani in crisi in gran bretagna sette anni dopo che william e kate hanno lanciato una campagna per aiutare i giovani con problemi di salute mentale come depressione e ansia una nuova ricerca commissionata dalla loro fondazione suggerisce che i giovani britannici stanno ancora soffrendo da un sondaggio condotto su 3000 giovani di età compresa tra 16 e 24 anni è emerso che il 39 per cento ritiene di non gestire bene le proprie emozioni e il 95 per cento afferma che i propri amici hanno qualche tipo di problema di salute mentale i risultati arrivano mentre il principe e la principessa si preparano a intraprendere una serie di impegni in tutto il paese questa settimana a partire da un forum a birmingham oggi martedì per celebrare la giornata mondiale della salute mentale exploring our emotional world riunirà 100 giovani di età compresa tra 16 e 24 anni per discutere di come gestiscono le proprie emozioni e come possono essere aiutati a sviluppare la propria resilienza nel 2016 william kate e il principe harry hanno lanciato ads together una campagna innovativa che ha sfidato lo stigma sulla salute mentale e ha incoraggiato più persone a parlarne è opinione diffusa che si è riuscito a incoraggiare più persone a parlare della propria salute mentale ma c'è un enorme arretrato di pazienti in attesa di essere curati in un contesto di carenza nazionale di psicologi qualificati e altri specialisti